Sindaco, quindi tanto rumore per nulla e i lavori vanno avanti? Beh no, c'è comunque una sentenza che non va assolutamente sminuita. Le sentenze appunto non si contestano, non si aggrediscono, si valutano e se si devono contestare lo si fa con gli strumenti previsti dall'ordinamento. Ecco perché ci siamo presi qualche giorno per analizzarla con gli uffici legali che hanno confermato assolutamente la bontà e la verità degli atti che hanno portato poi alla sottoscrizione del contratto per la riqualificazione del teatro, il recupero del teatro comunale, la restituzione nella sua pienezza alla città con i fondi che poi sono diventati PNRR. Quindi va avanti l'opera, si sta portando a compimento come è previsto la progettazione esecutiva da parte della ditta. Questo tempo ci servirà anche per affrontare la questione del rapporto con il privato anche a seguito di questa sentenza, una sentenza che ha previsto un riconoscimento di un risarcimento danni per l'importo che conoscete, molto più basso rispetto a quello che era stato richiesto in sede di giudizio, ma credo che questa sia la fase che debba portare ad un confronto e portare avanti un confronto che c'è sempre stato. Guardate perché fin dal primo momento, ed è anche una causa dell'effetto che poi la sentenza ha riscontrato, c'è sempre stata la piena collaborazione dell'amministrazione nei confronti di un'attività privata molto importante per la nostra città. Anche nei momenti di difficoltà, di maggiore difficoltà, abbiamo lavorato, gli uffici hanno lavorato per garantire nel pieno rispetto delle norme la continuità di un'attività commerciale così importante. Gli estremi per impugnare, per fare ricorso, sembrerebbero esserci da una prima lettura, ma ci sono e ci saranno, anche perché ci sono alcune incongruenze che emergono già da una prima lettura dal punto di vista giuridico, ripeto, una contestazione solo e esclusivamente sull'aspetto giuridico, però chiaramente la scelta anche processuale sarà legata alla, chiamiamola così, alla trattativa, all'intesa, alla collaborazione che vogliamo trovare assolutamente col privato nell'interesse di tutti. C'è un passaggio della sentenza che dice che il Comune avrebbe dato l'assenso al rinnovo della concessione quando era già certo dell'ottenimento del finanziamento per la riqualificazione del teatro. È così e se è così come è potuto accadere, Sindaco? Guardi, quello che accennavo prima nel precedente passaggio, un conto è la prima fase, che è una fase in cui il finanziamento è stato, diciamo, così concesso, tra l'altro inizialmente non era PNRR, è stato trasformato in PNRR in un momento in cui non c'era uno sviluppo progettuale che chiarisse sostanzialmente se c'era o meno un'incompatibilità con la presenza dell'attività commerciale. L'incompatibilità acclarata, confermata tra progetto di recupero del teatro nella visione che i progettisti hanno dato in fase successiva e l'attività commerciale si è, diciamo così, accertata dopo.